Da dove dobbiamo partire? Dobbiamo partire da quelli che sono gli otto punti per avere un'azienda orientata alla vendita, ok? Quindi, quali sono le otto regole per un'azienda orientata alla vendita? Prima regola, ne ho già parlato, i clienti scelgono sempre l'opzione migliore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi non siamo bravi a rendere la nostra opzione come la migliore disponibile sul mercato, le persone non ci sceglieranno. Ora, come si può far percepire la propria offerta come la migliore disponibile? Innanzitutto, dobbiamo ridurre le opzioni a disposizione. Ricordiamoci che se noi vogliamo fare una vendita consulenziale, ok? Da consulenti non possiamo pensare di dare troppe opzioni al potenziale cliente. Perché? Perché ovviamente non sa scegliere. Se un potenziale cliente sapesse scegliere in autonomia, non verrebbe da noi. Quindi, questa cosa qua, chi è che la sa fare benissimo? I truffatori. I truffatori sono i migliori a far apparire la loro soluzione, il loro investimento, ciò che ci stanno chiedendo, come la migliore opzione possibile sul mercato. Altrimenti non sarebbero in grado di truffare, ok? Noi lo facciamo andando ad isolare le altre opzioni. Che cosa vuol dire? Parliamo di vendita, spesso quando si parla di vendita, magari non noi che abbiamo il polso della situazione, ma i nostri collaboratori hanno quasi il timore di parlare dei prodotti della concorrenza al potenziale cliente. Non c'è nessun tipo di problema. Dobbiamo essere consapevoli che nel 2025 ormai le persone conoscono e sanno benissimo ciò che il mercato offre. Altro concetto che dobbiamo sempre tenere in considerazione, che è un po' una conseguenza di quanto appena detto. Cioè, vale a dire che le persone fanno sempre il confronto con quelle che sono le opzioni che hanno a disposizione. E quindi che cosa succede? Che le persone fanno delle valutazioni soggettive. Quando una valutazione è soggettiva, si basa su quello che la persona percepisce. Quindi, quanto siamo bravi a far apparire come migliore soluzione possibile per quel potenziale cliente il nostro prodotto o la nostra soluzione? Noi dobbiamo essere bravi dal primo contatto fino al post vendita a creare sempre il giusto paragone e a facilitare le scelte del cliente. Il cliente non sa decidere. Se sapesse decidere, verrebbe con le idee già chiare. Ma dal momento che si rivolge a noi e quindi ci chiede supporto, ci chiede una consulenza, è perché non ha le idee chiare. Se uno di questi tre elementi viene meno, comunque non è al massimo, il potenziale cliente non compra. Quindi questa è una cosa di fondamentale importanza con cui dobbiamo assolutamente convivere con la consapevolezza che tutti i clienti possono comprare tutto. Che cosa voglio dire? Tutti i clienti possono comprare tutto vuol dire che quando le persone devono affrontare dei lavori, non è che vengono da noi, come mia figlia Giulia che mi dice papà ho questi soldi, questi franchi che posso comprare? Non è che ragionano così. Sicuramente avranno un tetto massimo di spesa, ma non è. E se hanno 10.000 euro sul conto corrente potranno spendere, cioè vengono da noi e ne possono spendere al massimo 9.999. Quindi tutti possono comprare tutto, dobbiamo entrare nell'ottica che le persone possono comprare tutto. È un iperbole, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che in assoluto è proprio così. Cioè, che vuol dire in assoluto? Ragazzi, quando una persona deve affrontare una ristrutturazione, ad esempio, e ha un budget, e ha un mutuo di 300.000 euro, che significa? Che per gli impianti può spendere 50, può spendere 60, può spendere 80, può spendere anche 100. È chiaro che se spenderà 30.000 euro in più per gli impianti, quei 30.000 euro dovrà detrarli dai sanitari, dalle finiture, dalle pavimentazioni, ad esempio. Quindi tutti possono comprare tutto. E se noi accettiamo questa cosa, possiamo completamente ripensare chi è il nostro cliente target. Quindi, prima accettiamo questa cosa, e prima questa cosa la facciamo accettare a tutta quanta la nostra azienda. Perché? Perché se chi mi fa la prequalifica, parte dal presupposto che quella persona non può permettersi quel prodotto, abbiamo già perso in partenza. Abbiamo già perso in partenza. Quindi noi dobbiamo sempre, sempre qualificare il set di scelte che ha a disposizione il cliente. E dobbiamo mostrare la nostra soluzione come l'unica che risolve il suo problema. Se le persone trovano di fronte a loro una soluzione che risolve il loro problema, si fidano di chi gliela sta proponendo, si fidano di chi la fa, di chi la realizza, di chi la produce, comprano. Ma dobbiamo lavorare su questi tre aspetti. Altra cosa, parlando di vendita, se vogliamo avere un'azienda orientata alla vendita, dobbiamo prevedere gli scenari, dobbiamo essere consapevoli che fare impresa è un gioco infinito. Perché vi dico questa cosa? Perché è fondamentale. Perché noi non giochiamo solo per vincere. Noi giochiamo per continuare a giocare. E se accettiamo questa cosa, e se non vediamo la vendita come quella cosa che se non c'è sono problemi, la viviamo meglio. Ma dobbiamo fare in modo che i nostri collaboratori siano ovviamente allineati. E la vendita deve muoversi tra ambiguità e certezza. Che cosa voglio dire? Noi non dobbiamo essere né troppo certi, categorici, né eccessivamente ambigui. Ok? Non dobbiamo prendere in giro le persone, attenzione, ma dobbiamo comunque muoverci tra queste due cose. Perché? Perché spesso, alcune volte, le persone vogliono credere delle cose. Quindi se io so che le persone vogliono credere che venendo da me risparmiano, vorrà dire che quando presenterò la mia offerta o la mia soluzione, gli darò questa impressione, andando a lavorare sulla sensibilità al prezzo. Però questo è quello che devo fare. Questo è il vero vantaggio oggi. Questo è quello che si può fare oggi. Quindi che cosa vuol dire ambiguità? Vuol dire far ragionare le persone nel breve periodo. Certezza è invece nel lungo periodo. Ok? Altra cosa. Dovete sempre proteggere il cliente finale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutta l'azienda non deve mai, mai far sentire scemo il potenziale cliente. Perché? Perché nessuno vuole sentirsi trattato da imbecille. Nessuno vuole sentirsi trattato come quello che non ha capito una mazza. prima dell'acquisto, dopo dell'acquisto. E che cosa vuol dire all'atto pratico? Vuol dire andare ad abbassare il rischio. Cioè qual è il rischio che corre un potenziale cliente rivolgendosi a noi? E qua si può lavorare sulle garanzie, sulle coperture, sul come dare sicurezza. Vi ricordate i sette bisogni delle persone che fanno lavori in edilizia? Qual era il primo bisogno? La sicurezza. Quindi questo è un altro aspetto di fondamentale importanza. Proteggere sempre il cliente. Dopodiché, le persone che cosa vogliono? Vogliono avere un risultato certo. Quindi, quello che vi chiedo, e magari qui vi chiedo anche di fare una piccola riflessione, ma quello che voi proponete garantisce un risultato certo, è specifico, è misurabile, è prevedibile, riuscite a dare numeri, prove e testimonianze? Perché questo è di fondamentale importanza, ragazzi. Le persone, quando acquistano, acquistano la tranquillità, acquistano la sicurezza. Altrimenti non verrebbero a comprare da noi che siamo più professionali rispetto ai nostri clienti. Quindi non dobbiamo sottovalutare nessuno di questi aspetti. Altra cosa, coincidere, far coincidere sempre, il risultato è, quindi aspettativa e offerta. Se in fase di trattativa, l'aspettativa e l'offerta non sono allineate, che succede? Succede che le persone vanno, diventano, non hanno certezza, non hanno contezza, quindi non comprano. E poi che cosa devo fare? Devo giocarmela in trattativa. Ma la trattativa, perché non la facciamo diventare la raccolta dell'ordine? Perché non lavoriamo bene in tutte le fasi precedenti la presentazione dell'offerta, la chiusura, eccetera, eccetera, come abbiamo visto nella puntata precedente? Perché credetemi, ragazzi, cioè, noi spesso pensiamo che la vendita sia qualcosa di estremamente complesso, la vendita non è, la vendita è semplicemente ordine, ordine mentale, ordine negli step. Poi sicuramente io posso cambiare uno script di vendita, posso utilizzare una frase piuttosto che un'altra e incrementare, migliorare i risultati, ma di base i risultati che ottengo, li ottengo se ho un processo e voi in questi tre appuntamenti l'avete ricevuto, che mi mette in condizione di fare tutto questo. E quindi questa cosa qua dovete lavorarci. E se la nostra offerta non funziona, bisogna lavorare sul marketing, sulla vendita o su entrambi. È fondamentale, cioè, non è più difficile di così. E l'obiettivo quale deve essere? L'obiettivo deve essere superare sempre le aspettative. Quindi abbiamo visto il settimo punto. Ottavo qual è? È quello di far percepire un servizio VIP per vendere di più. Che cosa voglio dire? Voglio dire che qui bisogna lavorare attraverso tre livelli. Un livello base, un livello intermedio, un livello VIP. Ora, attenzione, non vi sto dicendo che dovete proporre prodotto A, prodotto B o prodotto C o soluzione A, soluzione B o soluzione C. Dovete differenziare semplicemente il trattamento, quindi il servizio che voi offrite ai vostri potenziali clienti. l'unica cosa su cui dobbiamo stare attenti qual è? È sempre ad allineare l'aspettativa con l'offerta. Quindi il livello più alto, il livello VIP va costruito davvero, non è una cosa che noi possiamo improvvisare. Ok? Quindi, ora, che cosa vi invito a fare? Dovete riconsiderare questi otto punti e andarli ad incastrare nel processo di vendita. Nella fase di prospezione, ad esempio, nella fase di primo contatto, in che modo io mi posso presentare come la miglior soluzione possibile al potenziale cliente? Quando presento, quando identifico i bisogni, quando presento il prodotto, in che modo posso dare la percezione che quella è la miglior soluzione possibile al mio cliente? Quando vado in chiusura, come posso argomentare il fatto che sta e tranquillizzare il mio potenziale cliente che sta facendo un acquisto su cui non dovrà pensarci nemmeno un minuto in più? Questo è quello che dobbiamo fare, ragazzi. Dobbiamo andare ad incastrare le sette fasi del processo di vendita con le otto caratteristiche che un'azienda orientata alla vendita deve avere per fare come avviene con la nitroglicerina. Se tu prendi la nitro e la glicerina da soli non succede nulla. Se tu prendi nitro e glicerina le metti insieme boom nitroglicerina. Questo è quello che voi dovete fare. Questo è quello che vi invito a fare. Se mixate le due cose e in ognuno dei sette punti del processo di vendita riuscire a dire ok, ma come posso quando facciamo la prequalifica farci percepire come l'opzione migliore? Come posso evitare che il potenziale cliente non scelga nel vuoto decisionare ma già quando gli rispondiamo al telefono gli rispondiamo un'e-mail percepisca un'altra azienda? Ok? Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Se prendete queste otto regole queste otto caratteristiche e le mixate con il processo di vendita e lo fate con attenzione lo fate applicandovi è impossibile che non otteniate risultati ma perché? Perché ancora una volta spesso nelle aziende non che cosa succede? L'imprenditore preferisce lasciar correre piuttosto che mettere mano in determinate aria aziendale dove sa che poi dovrà scontrarsi con le persone con le loro convinzioni sa che dovrà bestemmiare sa che dovrà smadonnare sa che dovrà svangare merda e preferisce lasciar correre le cose pur con la consapevolezza che ma sì vediamo quello che succede perché tanto tutto sommato va bene ora tanto tutto sommato va bene ragazzi non è l'approccio giusto che un imprenditore deve avere noi dobbiamo ambire a raggiungere l'eccellenza quindi ricordatevi non sono io il guru la differenza la fate voi che mettete in pratica tutto questo anche perché noi che cosa diamo ai nostri clienti noi ai nostri clienti diamo la pratica testata diamo ciò che funziona se tu applichi tutto questo ottieni risultati ma poiché tu non sei da solo devi ovviamente trasferire tutto questo anche ai tuoi collaboratori se riesci a trasferire tutto quello che hai nella tua testa ai tuoi collaboratori e gli trasferisci strategie testate che funzionano validate già in edilizia la tua azienda ovviamente non potrà che crescere ok quindi questo che cosa significa significa che andrai più veloce quando avrai al tuo fianco persone come te qual è però il problema il problema è questo è che lì fuori ci sono tanti che ti vogliono buttare giù persone in famiglia spesso mi trovo di fronte ai imprenditori che vorrebbero spingere ma per tutta una serie di problematiche familiari non lo fanno cazzo ragazzi ma come come si può fare impresa se io ho la mia famiglia poi che può essere famiglia nucleare famiglia estesa contro le persone restano ferme perché perché non vogliono difficilmente si mettono contro tutto questo quindi dovete diventare bravi a coinvolgere le persone intorno a voi a coinvolgere la vostra famiglia a fargli immaginare come potrebbe cambiare anche la loro vita se solo fossero disposti a fare un sacrificio per qualche anno dovete vendergli il cambiamento di vita è solo così che riuscirete a conquistare le persone intorno a voi ma è finita qui ovviamente no perché perché poi magari possono essere in molti casi i soci ma se avete delle persone che vi rallentano ragazzi ma per quale ragione le avete messi in azienda se voi siete i responsabili dello sviluppo aziendale coloro i quali si preoccupano su come far crescere l'azienda e magari il vostro socio è un operativo una persona che sta in produzione una persona che va in cantiere una persona che non sa nulla di tutto questo come pensate che possa dirvi si fai questo investimento non ne sa nulla quindi dovete avere la possibilità e la responsabilità assumendo le conseguenze di poter decidere in autonomia è finita qua no perché l'altro scoglio sono i collaboratori dove lo liquidi e lo mandi via esatto dovete vincere tutte le resistenze che vi faranno i vostri collaboratori perché perché stanno nella zona di comport perché stanno bene così tutto sommato quando gli dite che da domani devono cambiare e devono smettere di fare quello che hanno fatto fino ad oggi vi sentirete dire eh no ma così non si fa ma così poi le persone pensano che vogliamo venderli e per quale cazzo di motivo ti sto pagando se non per vendere le cose alle persone perché perché questa è la realtà spesso ci si scontra con tutto questo spesso ci si scontra con le associazioni associazioni di categoria eh no ma quello fa quello fa un marketing aggressivo quello fa le cose le istituzioni cioè cazzo ragazzi voi dovete proteggervi da tutto questo dovete dovete avere una sorta di una sorta di armatura che vi deve proteggere da tutto questo e dovete andare avanti per la vostra strada con una consapevolezza non esistono pillole magiche quindi non potete pensare di risolvere problemi che vi portate avanti da anni o attenzioni possono essere dei problemi negativo o il fatto che non cresciate o che non facciate delle cose da anni e ora boom in un mese cambio tutto i più clienti non arrivano domani mattina non dobbiamo prenderci per il culo perdonatemi il termine ma soprattutto dobbiamo smettere di farci prendere per il culo da altri ma per quale ragione noi dobbiamo apparire come quelli che non ce la fanno come quelli che ci hanno sempre problemi come quelli che ci hanno sempre rotture di cazzi come quelli che non guadagnano quanto vorrebbero come quelli che devono dire no perché non possono fare una certa cosa per quale ragione per quale motivo dobbiamo passare come quelli stupidi che non ce l'hanno fatta come quelli stupidi che non riescono a trovare la quadra per ottenere i risultati che vogliono perché la realtà dei fatti è questa quindi che cosa posso fare per te o comunque cosa possiamo fare per voi una sola cosa ragazzi fare ciò che facciamo con i nostri clienti quindi farvi guadagnare fino a 40 euro per ogni euro investito con il nostro servizio più clienti per te che poi si chiama clienti a comando anche se lavorate in una piccola città perché abbiamo anche aziende rivendita di ceramiche infissi in un piccolo centro che comunque ottiene risultati ora quali sono i vantaggi di un piano vendite così fatto uno avrete le idee chiare cioè cazzo non dobbiamo girare a vuoto sappiamo quante cazzo di vendite li dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo ricordatevi che gli obiettivi vengono raggiunti nella misura in cui fate delle azioni o delle attività che hanno senso e che vi avvicinano di più sempre all'obiettivo cioè non basta dire io voglio fare un milione ma quel milione come lo devo fare beh se ogni cliente mi genera ricavi per 20.000 euro io dovrò vendere a vendere poi consegnare erogare a 50 clienti per poter fatturare un milione quindi che cosa vuol dire vuol dire che se il mese se l'anno è fatto da 12 mesi anzi 11 perché agosto ovviamente guai a lavorare che cosa dovrò fare vorrà dire che io ogni mese dovrò portare a casa 5 clienti dovrò fare 5 vendite che rapportato a un lavoro a un piano settimanale vuol dire che ogni settimana una barra due trattative me le devo dare come obiettivo facendosi il culo facendo le attività giornaliere che fanno raggiungere gli obiettivi che ci portano nella condizione in cui vogliamo fin tanto che non trasferite fin tanto che queste cose non sono chiare per voi e non le trasferite ai vostri collaboratori fin tanto che voi e loro non avrete le idee chiare i risultati non arriveranno mai quindi dovete sapere quante vendite dovete fare dovete sapere quante opportunità dovete aprire in maniera tale da avere tutto questo pronto e più veloce le persone non devono dire ma quante opportunità devo fare te lo dico io ogni settimana devi presentare 15 offerte ogni giorno devi presentare 3 offerte quello è il tuo obiettivo stop e vedete come per magia che i risultati arrivano ok quindi se avete un piano vendite vendete di più e come per magia otterrete più clienti quindi la domanda che devi farti e come posso ottenere il massimo per la mia azienda e provate a pensarci secondo voi qual è l'ostacolo più grande qual è la cosa che più di tutte vi frena non ve ne venite con storie del mercato la zona la cosa perché se la zona non vi piace cambiate zona ve lo dice uno che si è spostato a più di 1000 km perché non mi piaceva stare il contesto in cui vivevo noi stessi esatto e questo ragazzi fin tanto che non acquisite consapevolezza fin tanto che non uscite dalla ruota del criceto ragazzi non si andrà da nessuna parte non si andrà da nessuna parte ma non perché siano delle cose dette fatte le solite menate le solite storielle che in realtà deve fatti fin tanto che non prendete in modo serio e responsabile il problema della crescita il problema tra virgolette della crescita della vostra azienda non andrete da nessuna parte quindi se volete crescere dovete prendere a cuore il problema della crescita della vostra azienda però dobbiamo essere onesti perché è perché non si può non si può pensare di risolvere in un mese un problema che abbiamo generato negli anni nessuno di noi ha la bacchetta magica se i problemi sono nati negli anni non possiamo pensare di risolverli in un mese dobbiamo lavorarci da subito ma ci vorrà del tempo e qual è il nostro lavoro è evitarti tutti quegli ostacoli e farti andare più veloce quindi questo è quello che noi dobbiamo fare e occhio perché tutto questo non significa che dovete semplicemente aggiustare il tiro dovete cambiare idee quindi mentalità e le azioni che fate altrimenti i risultati non arriveranno e dovete andare a superare tutte le abitudini mentali tutte quelle convinzioni che ci portiamo dal passato volere e potere stop tutto il resto sono scuse ragazzi sono scuse ok quindi prima entriamo nell'ottica che ci vorrà del tempo ma il vantaggio qual è? è che noi sappiamo esattamente quello che ti serve quindi la domanda che ti devi fare qual è? ma vuoi avere tutto pronto e andare più veloce senza fare errori che ti costano tempo soldi ed energie? vuoi farti seguire con supporto costante da chi ha già vinto le sfide che stai combattendo? e vuoi usare tutti gli strumenti già testati in edilizia senza metterci anni o tempo per doverli cercare crearli testarli capire e validare? perché questo è ciò di cui parliamo questo è ciò che hanno i clienti che lavorano con noi seguiamo una trentina di aziende se vediamo qualcosa che funziona la ribaltiamo automaticamente su tutte quante le altre quanto cacchio vale questa cosa? perché questo è quello che facciamo quindi in soldoni vuoi me e il mio staff come partner di crescita per la tua azienda? perché questo siamo partner di crescita in edilizia che cosa vi posso dare il sistema di acquisizione clienti più completo perché non esiste nulla di simile più efficace più vantaggioso mai creato nel nostro settore clienti tutti i mesi dell'anno senza problemi di stagionalità ma soprattutto senza problemi di cassa chi affianchiamo con delle tecniche di vendita più avanzate per avere più contratti dei preventivi perché è quello che facciamo tutti i giorni ragazzi ok ma soprattutto con un dato numerico in media un cliente per ogni euro di budget che ci dà gli ritorniamo 40 in media il nostro sistema ragazzi a differenza di tutto quello che fanno gli altri non è solo ti facciamo le campagne su facebook ma il nostro servizio clienti a comando ha tre pilastri quali sono i tre pilastri del nostro servizio clienti a comando primo campagne di marketing dobbiamo generarvi delle opportunità questo lo facciamo attraverso delle campagne di marketing in cui andiamo a prendere il target che voi ovviamente decidirete che volete aggredire secondo pilastro call settimanali cioè ogni settimana noi ci sediamo al vostro fianco e insieme valutiamo l'andamento di tutto quello che stiamo facendo ogni settimana a due livelli e qual è il terzo pilastro che nessun altro può offrirgli avere alle spalle una società di consulenza quindi tutto questo come funziona nella pratica si parte sempre da una call di setup se non sappiamo ciò di cui avete bisogno non possiamo definire la strategia per farvi raggiungere i risultati prefissati facciamo un check e verifichiamo se il vostro posizionamento quindi come voi vi presentate è allineato rispetto a quelli che sono i risultati che vogliamo ottenere rispetto a quello che è il target che vogliamo aggredire facciamo un check del vostro processo di vendita e voi avrete un contatto costante con il nostro customer success manager cioè è una persona che tutte le settimane verifica come stanno andando le vendite cioè quella cosa che forse dovrebbe fare l'imprenditore ma che per tutta una serie di ragioni il cantiere il cliente le rotture di cacchie non lo fa la facciamo noi e vi garantisco che quando le persone sanno che c'è qualcuno che gli sta col fiato sul collo performano meglio e se non performano nonostante questo vuol dire che sono le persone sbagliate ok quindi questo è il nostro servizio clienti a comando che è un'imprenditore che è un'imprenditore che è un'imprenditore